Per ora dovranno rispondere solo del reato di truffa, ma nuovi capi di imputazione potrebbero emergere al termine delle indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza di Andrea e coordinate dal sostituto procuratore di Trani, Luigi Scimè. Sono le tre persone arrestate dalle fiamme gialle andriesi al termine di una complessa attività investigativa, arrivata a compimento grazie alla denunzia spotta da una delle vittime di un articolato raggiro. Dalle indagini è emerso che da lungo tempo i tre soggetti si rendevano protagonisti di una vera e propria messa in scena ai danni di alcuni titolari di società, che per mettersi al riparo da pericoli fittizi erano disposti a pagare tangenti da diverse migliaia di euro. L'ideatore del sistema truffaldino sarebbe il canosino Gerardo Pipe, 49 anni, dipendente della Camera di Commercio di Andrea. Era lui che accedeva alle visure camerali, prendeva contatti con i titolari di aziende del territorio e li convinceva dichiarando il falso che la Guardia di Finanza stava indagando sulle loro attività e che presto avrebbero effettuato perquisizioni nei loro uffici. Gerardo Pipe veniva assistito da un complice, il commercialista Vincenzo Barletta, 43 anni, di Minervino Murge. Insieme arrivavano a creare dei finti fascicoli contenenti documenti di alcun valore probatorio, ma sufficienti a spaventare le vittime e a far credere loro di essere finite nei guai con la Guardia di Finanza. A rendere ancora più realistica la messa in scena veniva coinvolta una terza persona, Gianluca Iacobune, 37 anni, militare della Marina, residente a Canusa. A lui il compito di intervenire nelle riunioni con le vittime, convocate dai due complici, spacciandosi per un appartenente al corpo dei finanzieri. I tre soggetti, millantando conoscenze all'interno della Guardia di Finanza, garantivano alle vittime che le indagini sul loro conto sarebbero state insabbiate rapidamente se avessero acconsentito al pagamento di una tangente in denaro. I militari delle Fiamme Gialle di Andrea, raccolti i particolari della denuncia, sporta da una delle vittime, hanno organizzato ieri sera un'irruzione nello studio commerciale di Canusa dove venivano organizzati gli incontri e colto in flagranza di reato le tre persone considerate responsabili della truffa. Le perquisizioni dei militari hanno permesso di rinvenire nello studio la somma di mille euro frutto dell'azione illecita messa in piedi dei tre soggetti. La vittima della truffa ha dichiarato di averne sborsati in precedenza già 4.000 a fronte di una richiesta complessiva di 40.000 euro. Il comandante della Guardia di Finanza di Andrea, Antonio Casaluce, ha chiarito che al momento l'unica vittima accertata è la stessa che ha avuto il coraggio di denunziare i tre presunti malfattori, ma che le indagini successive potrebbero permettere di risalire ad un numero ben più ampio di persone cadute all'interno della rite truffaldina. Le tre persone arrestate dalla Guardia di Finanza sono finite ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Luigi Scimè.